che novità c'è vedo sempre ombre io ombre come mai queste ombre perché le ombre sono importanti allora oggi vi racconto una nuova favola vi racconto una nuova favola indovinate come si chiama questa favola non lo so io come si chiama diccelo no diccelo come si chiama questa favola raccontacelo no questa è una favola un po più lunghetta fa dei bravi ma sempre di lui vero certo non lo vedi eccolo qua sempre di leonardo da vinci te l'ho detto per tutto il mese per tutto il mese per tutto il mese parleremo e racconteremo la storia di lui va bene e va bene dice come si chiama questa favola si chiama le gru allora un re buono aveva molti nemici le gru sue fedeli e leali guardie stavano in pensiero per lui specialmente di notte quando le difese sono più deboli e nemici potrebbero entrare a palazzo che fare si chiesero e che fare i soldati invece di fare la guardia si addormentavano spesso sui sui cani sempre a caccia e sempre stanchi non c'è da fare alcun affidamento tocca a noi sorvegliare il palazzo pensavano le gru e far dormire al nostro re sonni tranquilli ah però che brave queste gru mica tutti hanno questi questi amici come come loro come le gru proprio bravi tu che ne pensi? ne penso che che meno male che meno male che ci sono questi amici che ti fanno dormire sogni tranquilli perché mica tutti mica ti puoi fidare di tutti di solito sai e ne succedono di cose con gli amici perché a te ti è successo qualcosa? no io sono tutti amici sinceri sincerissimi con tutte le stelline che ho regalato negli anni adesso regalo bacchette ma una volta regalavo stelline come queste vedi? vabbè allora segui dalla favola e così le gru decisero di trasformarsi in sentinelle dividendosi in gruppi e assegnando a ciascuna una zona con regolari turni di guardia come dovresti fare la garbatella? ma che c'entra adesso la garbatella con i turni di guardia? scusa eh non c'entra proprio niente allora dicevo il gruppo più numeroso si distribuì lungo il prato lo vedi? per rapporto a garbatella c'è un prato sì ma adesso sono diventati tutti i parchi tranquillo allora dicevo un gruppo si messe davanti alle porte dell'ingresso un terzo infine decise di stabilirsi davanti alla camera del re per sorvegliarlo meglio e poi? e se ci prende il sonno? domandò una delle gru contro il sonno rispose la gru più anziana stringeremo tutte quante un sasso col piede che teniamo alzato quando stiamo ferme? se qualcuna di noi si addormenta il sasso cadrebbe per terra e con il suo rumore ci sveglierebbe sveglierebbe chi si è addormentata non pensi che possa essere così? da quel giorno le gru fanno la guardia al re e nessuna ancora ha lasciato cadere il suo sasso e perché vedo quella mano? e vedi quella mano magica? perché anche a garbatella sono arrivate le gru sentinelle non lo sapevi? no! le troverai in una delle prossime favole di lei di lei che leggerà naturalmente Mago Rofischi ma queste per ora sono le favole di lui e allora mi vuoi dire qual è la... 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 la morale? sì, la morale è quando si vuole fortemente una cosa la si può ottenere con la forza della volontà capito? la forza della volontà la forza della volontà ecco qua la forza della volontà ciao ragazzi ci vediamo presto ciao ciao la forza della volontà ciao ciao